Il mio nome è Annawar. Recitare mi permette di esplorare. Di cambiare. Sono attratta da quello che mi sorprende. Come quest'auto. È un cambiamento totale. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Anche nella nuova versione 1741 cavalli 7DCT. In tutti gli showroom Hyundai. Un ciao a tutti voi da Rosi. Appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. In compagnia della concessionaria Hyundai Gerli. Mi raccomando seguite con particolare attenzione. Ma soprattutto ricordatevi di citare Promo Settembre. Promo Settembre è come una formula magica. Che vi darà la possibilità di accedere. a delle promozioni particolari. Studiate proprio per voi che seguite la trasmissione. Per cui seguite con attenzione quello che vi racconteranno i collaboratori appunto della concessionaria Gerli. E poi venite qui citando Promo Settembre. Ed ora buona visione a tutti. Un saluto a tutti da Vio David. Iniziamo subito con le Promo di Settembre. In particolare con la nuova Hyundai i10 Classic. Motore 1000 benzina 66 cavalli. Euro 6. Se acquisti la tua nuova i10 hai diritto a uno sconto straordinario di 1980 euro. Se hai un usato da rottamare per immatricolazione entro il mese di settembre. Aggiungiamo 500 euro di sconto. Hai totalizzato il massimo dello sconto pari a 2480 euro. Tua a partire da 8.900 euro su strada. Passiamo ora alla Hyundai i10 Login 1000 benzina. Sempre 66 cavalli. Motore Euro 6. Se acquisti la tua nuova i10 hai diritto a uno sconto straordinario di 1.630 euro. Se hai scelto la tua nuova Hyundai i10 con il Login Pack. Nel mese di settembre è omaggio e risparmi 600 euro. Ti ricordo che il Login Pack comprende fendi nebbia anteriori con luci diurne a led, altoparlanti posteriori, comandi audio al volante bluetooth e riconoscimento vocale. Se hai un usato da rottamare per immatricolazioni entro il mese di settembre aggiungiamo 500 euro di sconto. Hai totalizzato il massimo dello sconto pari a 2730 euro. Infine, se scegli tra le ultime 5 vetture disponibili in concessionaria e in matricoli la tua i10 entro il 30 settembre, usufruirai di un ulteriore sconto di 350 euro, totalizzando così uno sconto di 3080. Tua a partire da 9.300 euro su strada. Ricordatevi di dire promo settembre quando venite a trovarci per avere un ulteriore sconto qui da Gerli. Un saluto a tutti da Vio David. A presto, ciao! Un saluto a tutti da Ludovico Riccardelli. Continuiamo con le fantastiche promozioni di settembre che Gerli Auto ha riservato per voi. Iniziamo con Hyundai i20. Ve la proponiamo in allestimento classic, motorizzata da 1.200 benzina. Vi ricordo che l'allestimento classic è caratterizzato da climatizzatore, chiusura centralizzata con telecomando e computer di bordo. Se acquistate la vostra i20 classic con l'Advanced Pack, nel mese di settembre risparmiate ancora. Vi ricordo che l'Advanced Pack comprende la radio compresa AUX USB, il Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante. Nel mese di settembre hai diritto ad uno sconto di 2.400 euro al prezzo di distino e in caso di permuta lo sconto diventa di 3.050. Inoltre, se possiedi una vettura da demolire, ci sono ulteriori 1.000 euro di bonus ruttamazione. Totalizzando 4.050 euro di sconto complessivo, a settembre la tua nuova i20 potrà essere tua a 11.350 euro. Chiave in mano. Vi ricordo che Hyundai i20 è garantita per 5 anni a chilometraggio illimitato, come tutta la gamma Hyundai. E ora passiamo ai20 1200 Comfort con il Login Pack. Ve la proponiamo con 1.850 euro di riduzione dal prezzo di listino. Hai una vettura da permutare? Ti abbiamo riservato 650 euro di supervalutazione. E se invece la tua vettura deve demolire, ti garantiamo ulteriori 750 euro di bonus ruttamazione. Ma non è finita qui. Luce di urna LED con illuminazione statica degli angoli e cerchi in lega da 16, te le regaliamo noi. Login Pack del valore di 800 euro. Totalizzando uno sconto di 4.050 euro, la vostra i20 potrà essere vostra a 12.900 euro. Chiave in mano. Cerchi tanto spazio? Hyundai X20 può essere l'auto che fa per voi. Vi proponiamo la Hyundai X20 1.4 benzina in allestimento Classic più Advanced Pack. Questo mese con 2.850 euro di riduzione nel prezzo di listino. E nel mese di settembre i comandi audio al volante, i fenni nebbia e il bluetooth, te le regaliamo noi. Un pacchetto del valore di 400 euro. Grazie a uno sconto complessivo di 3.250 euro, la vostra nuova Hyundai X20 potrà essere vostra a soli 14.250 euro. Chiave in mano. I vantaggi continuano anche sulla versione Comfort. La Hyundai X20 in allestimento Comfort è caratterizzata da cerchi in lega da 16 pollici, sensori di parcheggio posteriori e 4 vetri elettrici. Se acquistate la Hyundai X20 Comfort nel mese di settembre, avrete diritto ad uno sconto di 3.150 euro dal prezzo di listino. Grazie alle promozioni del mese potrà essere vostra a 15.000 euro. Chiave in mano. Vi aspetto numerosi in salone. Vi ricordo di nominare Promo Settembre per avere ulteriore agevolazione sul prezzo. Un saluto a tutti da Ludovico Riccardelli. Buonasera e benvenuti a tutti in Gerli Auto Milano. Io sono Mattia Viganò, consulente alle vendite per il marchio Hyundai. Quest'oggi andremo a scoprire insieme il segmento delle vetture familiari della casa. Iniziamo subito con questa i30. Motore benzina 1.4 da 100 cavalli Euro 6. Proposta in allestimento Comfort con PlusPack. Per il mese di settembre può essere tua con un vantaggio di 1.500 euro. Che raddoppia in caso di permuta o rottamazione della vostra vettura usata. Portando il vantaggio a ben 3.000 euro. Per tutto il mese di settembre, inoltre, vi regaliamo il PlusPack dal valore di 750 euro. Che comprende clima automatico bizzona, fari posteriori a LED e ruota di scorta con cerchio in lega. Questo significa portare a casa la nuova Hyundai i30 Wagon in versione benzina a 16.750 euro. E la versione turbodiesel 1.6 da 110 cavalli a 19.200 euro chiave in mano. Se sei un agente di commercio, abbiamo pensato anche a te. Ti abbiamo riservato uno sconto del 22,5% pari a 4.950 euro, portando il prezzo finale a 18.000 euro tutto compreso. Se invece hai una società, potrai usufruire di un vantaggio del 24% pari a 5.280 euro. Il prezzo? 17.700 euro. Parliamo ora di i40, ammiraglia del segmento Wagon, equipaggiata con motore 1.7 turbodiesel 141 cavalli, abbinato ad un cambio automatico doppia frizione e 7 rapporti. Vediamo qui la versione business, completa di tutto, con sistema di navigazione da 7 pollici, fari Big Xenon, climatizzatore automatico B-Zona, cruise control, paddles al volante, chiave intelligente e molto altro ancora. Vettura super accessoriata, dotata di tutti i comfort per chi vuole viaggiare col massimo della comodità. Per questo mese Hyundai prevede per quanto riguarda i privati uno sconto di 3.000 euro dal prezzo di listino. Se ci portate la vostra auto usata, subito per voi un bonus di 2.000 euro. Inoltre, scegliendo una delle ultime due vetture in pronta consegna, proponiamo un ulteriore sconto di 750 euro, totalizzando un fantastico vantaggio di 5.750 euro, permettendoti di portare a casa la vettura a 29.850 euro, chiave in mano. Per gli agenti di commercio, proponiamo una scontistica pari al 21,5%, che si traduce in 7.050 euro. E solo per questo mese aggiungiamo il contributo permuta di 2.000 euro. Se decidi di intestare l'auto alla tua società, per te abbiamo riservato uno sconto del 23%, pari a 7.600 euro, a cui andiamo a sommare i 2.000 euro di contributo sull'usato. Ricordiamo ancora una volta che il bonus di 750 euro per immatricolazione entro il 30 settembre viene steso anche per le partite IVA. Vi aspettiamo numerosi in sede e ricordatevi di citare Promo Settembre. Un saluto da Mattia Viganò. A presto! Ciao a tutti, sono Antonio Soggese. Oggi voglio presentarvi il grande successo di casa Hyundai, nel nostro SUV Tucson, che oggi vi proponiamo nella versione 1.7 Turbo Diesel X-Possible. Se acquisti la tua nuova Tucson hai diritto ad uno sconto di 1.200 euro. Se hai un usato da permutare o rottamare, aggiungi al tuo sconto un contributo permuta di 800 euro. Ti ricordo che l'allestimento X-Possible comprende sistema di accensione con K-Lace, navigatore satellitare con telecamera posteriore per il parcheggio, climatizzatore automatico bizona. Potrai usufruire del nuovo metodo di acquisto Hyundai ii Plus, con dei tassi di interesse agevolati e dedicati. Hai totalizzato il massimo dello sconto, pari ad euro 2.000. Sottoponici la tua vettura usata, ti sorprenderemo anche in questo. Inoltre, se sei un possessore di una Hyundai i35, riceverai un ulteriore sconto di euro 250. Solo a settembre puoi guidare Tucson pagando solo la metà del valore. È una proposta straordinaria. Vi aspetto in concessionaria per parlarne. Se sei un agente di commercio, Hyundai Gerli ti riserva uno sconto dedicato, pari al 13%. Se invece sei possessore di una società, ti abbiamo dedicato uno sconto pari al 14,5%. Passiamo ora al Maxi SUV di casa Hyundai, l'eccellente Santa Fe. Proposto quest'oggi con motore 2.000 turbodiesel, 4 ruote motrici in allestimento Comfort. Versione Comfort che prevede di serie cerchi da 18 pollini in lega, sistema di navigazione dedicato con retrocamera di parcheggio, fare anteriore e posteriore a LED, sistema Audio Infinity Sound System con subwoofer e amplificatore, sedile anteriore e posteriore riscaldabili. Una versione quindi già ricca di molti optional che la rendono un'ottima alternativa ai convenzionali SUV in commercio. Vediamo l'offerta di questo mese che prevede un contributo di ben 5.000 euro. se avete un usato da permutare. Pertanto vi invito a sottoporci la vostra vettura usata per una supervalutazione. Inoltre, se matricoli la tua Santa Fe entro la fine del mese, avrai un ulteriore bonus di 1.000 euro, totalizzando un incredibile vantaggio di 6.000 euro. Se sei un agente di commercio, questa è la vettura perfetta per te e hai diritto a una riduzione del 22% risparmiando l'IVA e sul tuo usato una supervalutazione di 2.800 euro. Se hai una società, lo sconto aumenta al 23,5% mantenendo i 2.800 euro di incentivo sull'usato. Ricordiamo infine che potrai esufruire del nuovo metodo di acquisto Hyundai Plus con dei tassi agevolati e dedicati. Cercami in concessionaria, sarò lieto di esserti utile per consigliarti il miglior acquisto. Un saluto da Antonio. Bene amici, avete visto quante promozioni, quante formule d'acquisto studiate proprio per voi per farvi risparmiare? Bene, ricordatevi che per approfittare di queste splendide promozioni, arrivando qui in Hyundai Gerdi, dovrete dire la parolina magica, promo settembre. Ricordatelo, un grazie a tutti voi per l'attenzione e un bacio a tutti da Rosy. Grazie a tutti.